bentornati a casa mia vi mostro queste matite che ho acquistato in un negozio che ha anche il sito internet in realtà le ho prese da loro in quanto il prezzo era abbordabile sono sei matite sfuse 2 carandash luminance sì e 4 derwent color soft perché sfuse primo perché le carandash luminance costano veramente tanto quindi prendere una confezione per ora almeno è impossibile e anche per provarle soprattutto per provare le derwent color soft e vedere se hanno la stessa qualità delle derwent derwent drawing che vi ho già mostrato e che sono favolose questo è il pacchettino confezionate benissimo guardate che carino con l'adesivo thank you for your order il negozio si chiama intingo shop a è un negozio che ha tutti i materiali per artisti qualsiasi cosa insomma io ho preso per ora solamente matite e loro spediscono sia con il corriere che con la spedizione standard però allora con il corriere costava mi sembra 5 e 90 la spedizione mentre con la spedizione standard che sarebbe arrivata in teoria e ora vi spiego tra una decina di giorni 3 euro invece me l'hanno mandata poi lo stesso col corriere io avevo scelto la spedizione da tirchi a 3 euro eppure mi è arrivato bartolini ieri sera e quindi me l'hanno spedita comunque col corriere anche se ho speso 3 euro il confezionamento impeccabile dentro c'era la fattura lo scontrino tutto e c'è anche questo adesivo che è il loro logo vedete in singo non mi hanno offerto sconti per pubblicizzare ovviamente bottega dell'arte è un negozio che si trova ad andria ecco così sono confezionate bene le matite non come quando le ordina ordinato vi ricordate le policromos e altre cosine da vertecchi roma che mi hanno messo le matite dentro una semplice bustina di carta che sballonzolavano quella per fortuna non hanno subito danni però questo è un confezionamento come si deve guardate che carino io l'ho già aperto ovviamente quindi non è un unboxing va beh questa è una scatolina di derwent che loro hanno probabilmente quando le prendono dai fornitori insomma hanno matite sfuse hanno anche le confezioni e mi hanno ecco quindi hanno utilizzato questa scatolina che contiene poi esattamente sei matite e sono sei matite che io ho ordinato come vi dicevo scuse già mi sto impappinando betta allora va beh eccole qua tre e tre sei ovviamente tenere una carandace luminance in mano è una bellissima sensazione queste credo siano le matite più care che esistano sono matite per artisti io non sono un artista però come vi accennavo in un altro video ho intenzione di realizzare dei disegni fatti da me e per poi appenderli al muro e la grossa minaccia che vi faccio in questo momento che ve li mostrerò quindi insomma verranno fuori non so come ripeto non so disegnare non so colorare non so fare però mi piace e quindi perché no poi si faranno le prove farò prima le prove colori in brù nella brutta tra virgolette no e poi realizzerò qualcosina ordinato anche un album ecco poi vi farò il video perché ho preso anche altre cose in un altro negozio di cartoleria vi farò il video apposta eccole qua allora 5 minuti e 23 per non dire nulla praticamente scusatemi iniziamo a provare le derwent color soft io l'ho già provate ieri ma al volo sono arrivati ieri sera su tardi ecco come tonalità ho scelto prevalentemente dei grigi e poi ho preso un lilla potevo non prendere un lilla scusate è un blu insomma vabbè adesso comunque le svocciamo e vediamo un attimino prima svocciamo le derwent color soft queste non sono carissime ma nemmeno che regalate è il tratto insomma 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 forse su questa carta si sente il graffio sulla carta non sono come le derwent drawing assolutamente sono durette almeno su questo tipo di carta di quaderno che però non è un foglio praticamente un pochino più erto rinforzato il colore è bello però insomma mi aspettavo altro credevo un pastello morbido invece è duretto vabbè pazienza a e il numero è il se vi interessa il bright lilac il codice c260 abbiamo poi la petrol grey c680 un grigio perché ho preso più di un grigio perché avendo intenzione di realizzare questi disegni con le matite più buone che ho devo utilizzare anche le prisma color pencils ma la scatola che ho preso non prevedeva i grigi quindi diciamo che vado a integrare con queste matite sfuse che ho preso ora è un bellissimo grigio tendente al nero non un'antracite un'ardesia color lavagna molto bello però come prima come il lilla non è un po duretta non è che un difetto se sono così queste matite è giusto che siano così come per mescolarle qui insomma come si dice per la mescita non mi sembra che si mescolino granché bene prendete tutto con le pinze io non sono un'artista e quindi vedremo poi col blender eventualmente poi abbiamo la persian persian gray grigio persiano la c660 vediamo sempre un grigio un po più chiaro vedete no non mi sembra che si mescolino bene queste devo vedere col blender è un grigio un po più chiaro un grigio topo proprio il classico il grigio topo stessa cosa è dura la matita è dura la mina l'ultima meno male che le ho prese sfuse l'ultima there went color soft queste non sono acquerellabili però credo che ci siano anche anzi ne sono quasi sicura delle versioni acquerellabili della derwent brown black nero marrone c640 è un dovrebbe essere un marrone molto scuro stessa cosa non mi piace la mescita il colore è un sì è praticamente un nero ora non è che ci sia troppa luce oggi colore un po strano si marrone tendette poi magari facciamo la prova sull'album da colorare proviamo le bellissime carandache luminance prese solo 23 euro e 10 costavano mentre le color soft della derwent costavano un euro e 90 questa è la se la 739 è il verde a bete scuro vabbè qui c'è scritto ovviamente in inglese qui siamo su un altro pianeta è qui siamo proprio su un altro pianeta è un comunque un contratto duretto colore mamma mia qualcosa di non ve lo so spiegare bellissimo bellissimo il tratto è morbido anche se la mina comunque io la sento dura bellissimo no no vabbè costano tanto evidentemente un motivo c'è e quindi questa l'abbiamo provata lo smalto scheggiato non ci fate caso allora questa è la la 159 ed è il blu di prussia questa graffia perché oddio il colore sia bellissimo però non mi piace a me piacciono le matite un pochino più cerose e pure entrambe le queste matite questo tipo di matite dovrebbero essere a base cerosa e ma forse predomina più la base oleosa non lo so vabbè faremo altre prove insieme per ora insomma sarà che le derwent drawing mi sono rimaste nel cuore e le sentivo decisamente più morbide di queste qui va bene vi ringrazio vi saluto e vi aspetto al prossimo video un abbraccione e un bacione grande grande a tutti ciao ciao e a tutte